Buongiorno a tutti, eccoci con GPONR, attualità con tanti temi, soprattutto quest'oggi dobbiamo dire che ci fermiamo nell'arte in genere, un po' su tutto quello che fa parte del mondo artistico della Sardegna e parleremo immediatamente con Alessandro Toscano. Alessandro Toscano è un fotografo di punta della nostra isola e ci dirà di quel che ha maturato in questo cambio di Sardegna che c'è stato dopo l'interruzione, dopo la chiusura, dopo essere stati tutti a casa e che tipo di riflessioni sono nate in lui che è abituato a guardare il mondo focalizzando l'attenzione attraverso l'obiettivo e cercando di fissare con quell'immagine quella che è la lettura del mondo. Un viaggio molto molto interessante quello che faremo con Alessandro Toscano. Continueremo facendo una capatina nella nostra redazione di GP Report dove andremo a sentire quello che è stata l'esperienza di Andrea Sanna nel corso del concerto di Salmo, Salmo che insieme a Gali hanno suonato ad Arbataxi in un contesto particolarissimo perché hanno suonato nel mare, tutti sopra le barche per poter seguire il concerto e per stare alle dovute distanze anche a evitare insomma quel che capita nei concerti e chiaramente Salmo è stato ancora una volta molto molto intuitivo, un artista tutto tondo che riesce a dare un contributo importante al mondo musicale in genere ma non solo. E concluderemo con qualcosa di più tradizionale legato alla Brigata Sassari perché parleremo con Andrea Azzeni, Andrea Azzeni è il capo musica della banda della Brigata Sassari, quella che suona Dimonius e andremo a scoprire alcuni segreti legati proprio a Dimonius, a quello che c'è dietro, alla storia dei sardi, a come comunque è diventato questo canto, un canto che ci rappresenta un po' dappertutto e che si distingue nel panorama perché un canto in sardo che fa parte dell'esercito italiano, l'unico cantato con la lingua sarda, quindi del nostro popolo, è l'unico che chiaramente si distingue da questo punto di vista anche con una frase di chiusura che è in sardo, forza varia, in differenza di tutti gli altri che sono in italiano o in latino. Tutto questo tra pochissimo su GPONR che chiaramente è diventato GPONR attualità, siamo ormai vicinissimi, anzi forse oggi la cinquantesima puntata. Grazie a tutti! Oggi GPONR tenteremo di vedere il mondo da dietro un obiettivo perché quando il mondo tu lo guardi focalizzando le cose è un mondo totalmente diverso e per raccontarcelo abbiamo Alessandro Toscano, uno che a livello di fuoco e a livello di obiettivo è uno che sa leggere il mondo in modo del tutto originale e artistico. Buongiorno Alessandro, bentrovato! Ciao, buongiorno a voi! Com'è il mondo? Com'è cambiato Alessandro? Dalla tua macchina fotografica il mondo in questi ultimi mesi? Noi abbiamo iniziato in pieno coronavirus quando tutto era chiuso, siamo andati avanti, stiamo guardando il rifiorire, il germogliare della società ma con molte preoccupazioni anche con la paura che questo germoglio si possa bruciare all'improvviso. Tu invece cosa hai colto in questi mesi di nuovo rispetto al passato? Ma allora per me questi mesi sono stati un po' un'occasione per ritornare sul passato in realtà perché diciamo rimanendo forzatamente chiusi in caso nel proprio studio a lavorare ho avuto la possibilità di riprendere quello che ho fatto negli anni quindi riguardare il mio artiglio, risbirciarlo, quindi è un po' un momento in riflessione è stato e da lì in realtà sono nati poi progetti nuovi che sto cercando di portare avanti. Cosa hai scoperto in particolare da questa introspezione? Ma di questa introspezione un po' i passi che molto spesso quando si corre troppo si perdono e fare un po' ricucire un po' un filo di quel che si è fatto fino ad adesso è stato molto utile per andare avanti in realtà poi diciamo lo scopo è sempre quello non di tornare indietro ma di andare avanti quindi è stato un po' questo la cosa importante di questo periodo. Mi incuriosisce molto scoprire qual è il filo che hai trovato visto che hai detto di una vita che va avanti velocemente e che cambia anche velocemente. Qual è la cosa che invece ti rendi conto che hai tenuto insieme e che può essere definito il minimo comune denominatore di tutti gli anni o di tutto il lavoro che hai svolto nel tuo caso ma anche di tutti gli anni che noi trascorriamo? Ma guarda diciamo che questo periodo è servito un po' a rimettere in ordine quelli che sono i valori principi con cui uno vive o con cui lavora nel mio caso appunto parlando di fotografia quelli che sono state le intenzioni che mi hanno fatto iniziare a lavorare come fotografo e che continuano a portare avanti quindi ovviamente per me il paesaggio è una componente importante del mio lavoro ovviamente essendo sardo il paesaggio della Sardegna è qualcosa che mi appartiene ed è un po' il fondamento del mio sguardo, quindi anche dei miei progetti il paesaggio inteso in senso lato, non il paesaggio solo naturale ma il paesaggio inteso come ciò che ci circonda la relazione che abbiamo col paesaggio, col territorio e quindi per me questo periodo è stato l'occasione anche per ritornare su alcuni progetti che avevo iniziato con cui adesso sto cercando di andare avanti ad esempio negli ultimi 3-4 mesi ho lavorato insieme a Giulia Ticozzi fotoeditor della stampa di Repubblica eccetera a un libro che stiamo cercando di portare avanti sul materiale che io ho prodotto dal 2009 al 2019 in Sardegna pensiamo di farne un libro, anzi sicuramente verrà fuori un libro, poi una mostra insomma stiamo mettendo insieme i tasselli e questo, guardare questi 10 anni di lavoro fatto in realtà poi mi sono serviti anche per farmi venire nuove idee nuovi stimoli che poi in realtà vanno a legarsi al passato è semplicemente un percorso che va avanti nei paesaggi di Alessandro Toscano c'è l'uomo è un argomento, questo che mi è capitato ad affrontare da giornalista in più di un'occasione quando si parlava dei cosiddetti parchi quando si parlava della tutela dei parchi si trascurava un aspetto che nell'equilibrio della natura c'è anche l'uomo presente che garantisce il suo equilibrio ad esempio io ricordo un po' di anni fa quando tutti abbandonarono l'asinara perché vennero chiusi i carceri poi alla fine si ruppe l'equilibrio naturale perché i cinghiali presero il sopravento e stavano distruggendo la natura in quanto prima c'era l'uomo che comunque col suo cacciare garantiva l'equilibrio ecco, al di là di questo estremismo proprio di tipo naturale l'uomo fa parte del paesaggio se l'uomo è colui che alla fine si muove nel paesaggio avendo il potere maggiore e rischiando di non utilizzarlo nel modo migliore assolutamente, assolutamente a proposito di presenza dell'uomo nel paesaggio poi di antropizzazione insomma dei territori e quindi del paesaggio negli ultimi tre anni mi sono occupato anche di turismo esatto di turismo e di overtourism anzi, proprio di sovrabbondanza del turismo soprattutto nelle città d'arte italiane e l'uomo è diciamo ciò attorno a cui ruota tutto non solo la progettazione dello spazio ma anche il suo utilizzo, il suo sfruttamento sino a livelli insomma, sino a poco tempo fa insomma esponenziali che crescevano in continuazione con questa sovrabbondanza di turismo e lo spopolamento dei centri d'arte è molto interessante invece vedere come di punto in bianco con un piccolo virus insomma questo meccanismo così oliato è sempre in fase di espansione e si è interrotto completamente e quindi sì, l'uomo esiste ha un rapporto diretto con lo spazio lo modifica, lo stravolge lo subisce esatto, e basta pochissimo insomma per rompere anche questa dominanza sullo spazio esatto, infatti molti hanno detto che quasi qualcuno estremizzando ha detto che anche il virus è stata una sorta di vendetta della natura sull'uomo sì, una vendetta diciamo perché noi cerchiamo sempre di considerarla dal nostro punto di vista allora ci sentiamo offesi dalla natura in realtà ecco sono quegli avvenimenti ciclici ovviamente non sono un esperto non sono un virologo, non sono un biologo però mi pare di capire che siano quegli eventi ciclici che caratterizzano la storia della natura e quindi anche dell'essere umano non è una vendetta credo che sia il normale scorrere della natura guarda, approfitto della tua presenza Alessandro per un altro aspetto e chi fa un lavoro come il tuo chi fa un lavoro artistico in genere deve sempre far quadrare i valori artisti di riferimento con i guadagni e la sopravvivenza quanto i valori in questo caso continuano ad essere dominanti nella vita di ogni giorno di un fotografo che magari non si è prestato a fare la fotografia su commissione ma preferisce fare la fotografia invece partendo da quello che è la sua sensazione e se vogliamo il suo talento ma è una condizione un po' difficile perché poi molto spesso la ricerca artistica e il lavoro vero da fotografo sono due cose diverse io per il primo periodo della mia carriera ho cercato di unire queste due entità quindi la ricerca e il lavoro occupandomi tantissimo di editoria di reportage, di fotografia documentaristica ho anche avuto e diretto un'agenzia fotografica internazionale per sei anni poi crescendo diciamo come artista mettiamola così le esigenze rispetto alla fotografia commerciale sono diventate divergenti ecco quindi diventa sempre più difficile unire queste due particolari questi due aspetti e quindi diciamo la fotografia commerciale è diventata più un lavoro non mi occupo tantissimo di fotografia editoriale anche se continuo a lavorare con i giornali e quindi molto spesso lavoro con le aziende con aziende private pubbliche con la pubblica amministrazione con dei committenti con dei committenti esatto e lì ovviamente essendo lavoro devi produrre un qualcosa che il tuo committente si aspetta e quindi ovviamente devi metterci tantissimo del tuo se vieni contattato è perché vogliono il tuo stile perché vogliono la tua professionalità professionalità tra l'altro sottolineo professionalità perché molto spesso si confondono i fotografi professionisti con i fotografi ammatoriali ultimamente però è normale è normale è normale sono tantissimi fotografi bravissimi che possono fare questo lavoro Alessandro mi piaceva sentirti mi incuriosiva molto capire attraverso un'altra forma di comunicazione che è quella della fotografia come si sta vedendo il mondo in questo periodo perché sai uso sotto le parole anche se poi le parole descrivono comunque le cose però cogliere in un'immagine ferma molte volte quello che avviene ritengo che sia certamente molto più molto più difficile quindi c'è l'ammirazione perché riesce a farlo grazie Alessandro io per chi lo fa con le parole ovviamente grazie Alessandro grazie a te grazie a te altrettanto ciao ciao andiamo a vedere un po' cosa hanno combinato i nostri redattori in questi giorni GP Report oggi è il turno di Andrea Stanna che è stato inviato speciale utile direttevole possiamo dire ad Arbatax per il concerto di Salmo buongiorno Andrea ben trovato buongiorno a tutti raccontaci questa esperienza il 18 luglio c'è stato il Red Valley Sea Festival si si parti organizzato appunto nella baia di Porto Farilis ad Arbatax dalla Red Bull in collaborazione con Salmo e successivamente anche Gali che ha preso parte dell'evento anche se è stato lo special guest che si è rivelato essere lui solamente alla fine un concerto organizzato veramente bene da parte dell'organizzazione poiché sono riusciti a unire e a coadiuvare varie forze varie aspetti che andavano curati di questo progetto per riuscire a farlo a farlo creare a farlo avvenire nel migliore modo possibile infatti attraverso un semplice pacchetto uscito il Red Bull si poteva acquistare il biglietto insieme al noleggio del gommone per farsi di poter andare ad assistere a questo concerto quattico in mezzo alla baia di Porta Frailis ha una cifra abbastanza modica successivamente poi visto il grande successo visto che in due ore poi sono finiti tutti i biglietti che erano previsti inizialmente si è messi in vendita altri e si è riempito tutto un concerto sold out la gente aveva più voglia di tornare a ballare tornare a vedere i propri beniamini cantare soprattutto in questa estate che sarà povera dal punto di vista musicale visto che i concerti non sono autorizzati ma con questa stratagemma Salmo soprattutto che si è impegnato molto a tessere le sagnatele di questo evento da dietro aiutando la Red Bull per quanto riguarda l'aspetto organizzativo sono riusciti a portare un prodotto a portare un evento che rimarrà comunque nella storia perché è una cosa del genere in Sardegna non si era mai fatta la gente era entusiasta è andato tutto per il meglio e soprattutto si è creato un grande evento riuscendo a bypassare le restrizioni ma comunque tenendo il tutto in un ambiente sicuro quante persone hanno partecipato Andrea? circa di mille hanno staccato ecco sì dovrebbero esserci più o meno tra le 2000 e le 2500 persone 200 barche più che altro le barche erano di capienza variabile sia la barca da 4 la barca da 12 cioè il gommone e in più sono stati affittati sono stati portati a largo anche queste due imbarcazioni più grandi che consentivano l'accesso a una qualità molto elevata di persone però senza avere naturalmente le comodità che si possono avere se si ha un gommone tutto brutto proprio comunque l'affluenza è stata tanta su 2500 persone in mezzo al mare per assistere a questo concerto che è durato più o meno dalle 5 qualcosa con l'entrata in scena delle ballerine del Mamacitta che è un programma di Radio 105 e successivamente i Gali ha preso il palco si è esibito per circa una quarantina di minuti organizzato dove il palco perché poi stiamo parlando di barche diventa capire si esatto è una barca la più grande barca della baglia mettiamola così sul tetto di questa barca c'era il palco con appunto gli artisti e le ballerine quindi comunque la barca rimaneva centrale e tutte le barche erano rivolte verso questa barca palco quindi una volta salito Gali sul palco ha intrattenuto il pubblico con vari hit ha intrattenuto il pubblico per una quarantina di minuti successivamente è entrato il padrone di casa Salmo che è stato presentato in bomba magna anche per l'office per mila mese e ha ha aiutato il pubblico per una quarantina di minuti una decina di canzoni per poi dedicarsi al DJ7 che è durato un'altra ora e mezza circa quasi prima del tramonto dico quasi prima perché appunto poi l'organizzazione è riuscita in modo molto ordinato molto studiato e progettato a riportare tutte le barche al molo senza nessun intotto cioè molte barche hanno solo visto di luci quindi si è fatto finire un po' prima il concerto e si è arrivati giusti per la chiusura quindi intorno alle 9 poi l'evento era finito ma comunque rimane il fatto di aver passato un'ottima giornata organizzata bene perché era veramente organizzata bene oltre che per la sicurezza di cui ho già citato prima visto che venivano distribuite mascherine a tutti presenti gratuitamente e c'era comunque un controllo da parte delle autorità abbastanza ampio cioè è stata accogliata bene anche dalla parte delle autorità visto la presenza di carabinieri di potere di finanza guardia costiera comunque era un'organizzazione che è stata pesante sicuramente era trannata incontro da tanti intoppi e tanti piccoli errori e piccoli ostacoli dal punto di vista burocratico ma che poi è riuscita tranquillamente a organizzare un evento di questa portata senti Salmo si dimostra ancora una volta oltre che è un ottimo autore un ottimo organizzatore perché una delle cose che sta distinguendo in questo grande artista olbiese è anche la capacità di riuscire a organizzare degli eventi particolari non è il primo che organizza in Sardegna è il primo in questa modalità ma ancora una volta è colui che sta caratterizzando un po' con il suo modo di fare con la sua regia chiamiamolo così anche quello che sono eventi nuovi con un taglio diverso diciamo che Salmo si è sempre contraddistinto per essere un artista atipico rispetto al resto della scena è sempre uno che guarda più in là guarda più in largo guarda il disegno che guarda il disegno totale non solo il suo percorso forse anche dato dal fatto che lui è cresciuto esponenzialmente nel mondo della scena rap già a un'età comunque in cui aveva i mezzi per poter ragionare per poter organizzare la sua scese infatti penso sia uno dei rapper più responsabili che ci siano poiché non ha mai smesso di lavorare non ha mai smesso di puntare essendo più in grande alla fine è arrivata a prendersi tutto e adesso che comunque dal punto di vista musicale ha dato tanto sicuramente non tutto ma tanto si sta spostando sull'etichetta infatti ha creato la sua etichetta per lanciare nuovi talenti e per appunto scoprire nuovi cantanti che possano poi andare a formare la nuova scena musicale intera italiana perché la cosa bella di Sam è che non si ferma il rap ma cerca di aprirsi a tutti i generi musicali ancora una volta ha un suo successo perché questo si vede che era proprio una cosa che lui voleva ed è una cosa che ci ha tenuto molto perché si realizzasse e ce l'ha fatta la grandissima il pubblico come sempre poi Sam in Sardegna diciamo che non ha bisogno neanche di prepararsi il pubblico l'è stato a memoria e qualsiasi cosa faccia viene acclamato come il grande personaggio che si sta arrivando a essere nel corso degli anni riconosciuto dai suoi fan riconosciuto dalle nuove leve ma riconosciuto anche da stelle affermate perché poi la cosa che si sta caratterizzando è che Salmo viene visto proprio come un genio della musica anche da da chi non ha certo bisogno di pubblicità faccio un esempio Giovanotti faccio un riferimento al concerto dell'anno scorso sì sì Giovanotti se l'ha portato nel GiovaTour Salmo perché è riconosciuto da tutti gli ambiti a quello il fatto di essere un innovatore riesce a farlo spaziare riesce a farlo uscire dalla sfera di comfort del rap dove lui non è mai entrato perché poi se ci pensiamo all'inizio della sua carriera lui faceva un rap che era completamente diverso da quello che andava lui usava le basi tectonic le basi tecno forti dure per fare il rap sopra una roba che non si ne ha mai vista e questa sua voglia di caratterizzarsi di rimanere sempre originale ha sicuramente inciso sul fatto che poi adesso tutta quanta la scena italiana lo reputi uno dei top forse uno dei maggiori rapper che si hanno uscito perché poi sempre ha trovato riconoscimenti sia dai rapper e fermati che dal resto se pensiamo alle prime canzoni in cui Salmo è lanciato nel mainstream era una collaborazione con Marrakesh Nel Luogo che è una canzone bellissima e fare comunque un fit di Marrakesh quando ancora non sei così affermato è un bel riconoscimento nell'ambiente del rap italiano quindi sì sicuramente è un artista tipico un orgoglio che noi dobbiamo portare avanti in quanto sardi poiché davvero si sta dimostrando essere qualcosa di diverso che però riesce a distingue se riesce a rimanere impresso perché quando tu senti Salmo cantare rappare su una base non c'è da sbagliarsi e lui è basta è riconoscibilissimo dalla voce dallo stile la sua originalità è quello che lo porta a essere così grande un altro orgoglio di Sardegna insomma in un settore particolare come quello della musica giovanile in questo caso ma della musica nel suo gene totale nell'ampiezza artistica di cui possiamo parlare ancora una volta con i distinguo che permettono di caratterizzarci bravo Salmo grazie Andrea e alla prossima al prossimo reportage speriamo che sia piacevole come questo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti a gp on air abbiamo andrea seni luogo tutto il primo luogo tenente e capo musica della brigata sassari buonasera andrea ben trovato come dice ancora poi ben trovati e grazie per il mondo tu sei colui che apre e che guida la banda della brigata sassari la brigata sassari che ha una storia straordinaria e che con il suo canto riesce ogni volta a fare emozionare la gente i sardi in particolare ma credo che un po tutti siano affascinati dal nostro canto da demonios beh demonios certo è una è un canto che è stato baciato da da una fortuna che poche musiche hanno è un canto ormai che non appartiene più a chi lo ha scritto a chi lo suona ma è un brano che appartiene al popolo e conosciutissimo in tutto in tutta tutta italia ma anche fuori dall'italia io ho delle amicizie anche negli stati uniti che mi fanno mi mandano dei video che mentre ascoltano demonios per le vie di new york ma potrei dire anche in svizzera è capitato questo come nasce demonios così per chi non lo sapesse facciamo anche polare la storia quando il generale manca divenne comandante della brigata mi chiese se esisteva un inno dedicato alla alla brigata e questo non esisteva allora fece una sorta di concorso all'interno per stimolare chi era capace a scrivere qualcosa venne fuori questo scritto del capitano specchi con una melodia che ci fu consegnato venne musicato tra l'altro giorni scorsi avete avete intervistato simone pittau che è uno di quelli che ha messo le mani nell'armonia di scoprire una cosa che non sapevo andrea lo sai non è stato mio militare qualche anno fa e ha messo le mani su dimonio grande musicista grande orecchio grande talento musica ma non solo lui ce ne sono stati anche tanti altri niente da lì poi fu accantonata perché la formula non era molto non avevamo trovato la formula giusta e arrangiamento giusto quindi in che anni nasce dimonio nel 94 nel 94 poi quando rivolgere carta che è un altro uomo brillantissimo per cui nutre un affetto particolare mi chiede ma so che c'è un inno mi disse ma me lo fai sentire allora quando lo lo stavamo preparando per farglielo sentire mi venne mi venne ci venne l'idea di alternarlo sto fa una storia cantata trofa musicale per dargli questa veste che li riconosciamo tutti quanti una una strofa suonata e una strofa cantata io lo feci sentire la mattina da oggi in poi suoni sempre questo quando io e lo facciamo subito qualche giorno dopo al giuramento che facciamo a nuoro lui passone la segna e da lì e da lì è il partito il tutto devo dire che grande merito ebbe anche vincenzo frigo che facciamo una trasmissione su una televisione sardegna 1 no ma forse non mi ricordo sinceramente adesso non saprei dire forse sardegna 1 videolina non mi ricordo comunque si chiamava memoria di sardegna e la sigla era di apertura e di chiusura la banda che suonava di muro per una marea di puntate di repliche contro quello contribuì anche al diciamo al lancio di questo brano di questo di questo pezzo che ripeto è conosciutissimo anche nella penisola quando siamo stati ultimamente siamo stati in val d'aosta siamo stati a biella un sacco di gente lo conosceva mi si avvicinava io ho scaricato da youtube conosco e ti vedo sempre ti conosco ho visto l'inno dopo i bersaglieri siete più forti qualcuno siete più forti insomma è un inno che ha anche in qualche modo rafforzato e questa identità che ha la brigata la stessa ha all'interno dell'esercito perché la brigata comunque ha nel suo nome l'identificazione facilmente identificabile se io ti dicessi adesso tanto per dire brigata osta tu cosa mi dici certo non mi dici palermo o messina perché la brigata osta è a palermo e messina per dire per dire e l'inno ha rafforzato ancora questa sardità della brigata sì peraltro un inno in sardo quindi qualcosa anche di particolare nell'ambito degli inni militari perché comunque facendo capo all'esercito italiano un inno ha cantato in sardo assolutamente assolutamente è la brigata sassari è l'unica che ha il suo moto non in latino non in italiano ma in sardo forza varis è l'unica brigata che non che ha un inno che non è né in italiano né in latino ma in una lingua una lingua regionale che è il sardo noi siamo gli unici che sfiliamo cantando né in italiano e cantando in una lingua che non è l'italiano diciamo che il giusto merito al sacrificio di tanti che effettivamente hanno caratterizzato poi quello che si racconta in dimonio su questi sardi che un suo galluto dentro perché fumavano e che praticamente lottavano con sarrasoia invece con la baionetta insomma ecco è capitato di suonare l'inno ti è capitato di suonare l'inno sull'alto piano di asiago ad esempio assolutamente noi siamo di casa di ago ho suonato almeno dieci volte quindici volte e che sensazione c'è lì in quei luoghi dove molti dei sardi hanno lasciato la loro vita c'è coscienza in aggiunto c'è coscienza delle persone le persone sanno chi siamo quando tu dici sono della brigata sassari sanno chi è stata la brigata sassari per loro parlo di persone adulte naturalmente hanno hanno mantenuto una memoria viva di quello che i sardi hanno fatto per loro sono ben consapevoli che i sardi hanno dato la vita perché loro oggi stiano come stanno è una cosa emozionante asiago si respira aria di casa assolutamente una cosa molto bella peraltro andrea è il fatto che ora che mi hai raccontato simone pitao e di san luri e a san luri c'è un museo risorgimentale è quello che sta appunto nel castello che è un dono è stato un dono a la famiglia vila santa per l'onore che i sardi portarono durante la prima guerra mondiale cioè quelle quelle tutti tutti quei cimeli che ci sono e quindi la possibilità di allestire proprio il museo nasce dal riconoscimento del grande valore dei sardi curioso no assolutamente assolutamente sì san luri è stato il terreno generoso di musicisti per tornare alla banda c'è anche il nostro suonatore di la uneda vincenzo canova è un'altra punta di diamante della banda suona un po di tutto lui ti voglio raccontare una cosa sai l'anno che ci fu il terremoto di l'aquila era prossimo al 2 giugno perché mi sa che fu aprile giusto si si decisa di fare una una festa del 2 giugno in luto nel senso che le bande non suonarono allora l'unica banda che suonò e cantò fu noi perché l'inno della brigata sassari è ritenuto un inno non guerresco ma un inno alla coesione un inno all'unità un inno alla comunità al ruolo sociale forse dell'esercito non credi tant'è vero che poi si sono aggiunti tutta una serie di capitoli alla prima edizione del testo cioè ogni volta che c'è stata una missione di pace così come vengono chiamate altre due sono state messe altre due strofe sì 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 è vero è verissimo e ti ripeto quella volta suonammo soltanto noi tutte le bande sfilarono multe solo la brigata sassari ebbe l'onore di suonare perché l'inno della brigata sassari è ritenuto un inno alla coesione e non c'è un inno guerresco bene andrea dicendo diciamo anche la tua origine perché abbiamo parlato di simone tu sei di sinna è giusto io abito a sinna e mezzo mi reso abbiamo puntualizzato per bene quindi senato a pirri quindi ancora 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 meglio ancora meglio perché abbiamo avuto abbiamo ridato a pirri quel che di pirri e sono figlio di musicista di banda mio padre oggi novantenne ha suonato in banda per tutta la mia da bambina ho seguito lui sono stato molto fortunato nella mia vita avere incontrato a essermi trovato nel momento giusto al posto giusto con la voglia giusta con le persone giuste ho avuto sicuramente più di quello che mi sarei mai aspettato da da questa professione andrea tu ho meritato adesso abbiamo scoperto anche un'altra cosa l'anticipiamo perché poi con te con simone pittà ci stiamo lavorando sopra abbiamo scoperto che il cagliari ha un suo inno dal 1964 e a scriverlo è un pirrese e questa è la cosa quindi tra poco vorremmo fuori anche con questa cosa io ti ringrazio andrea del tuo intervento e abbiamo scoperto un pezzo della nostra storia peraltro anche io non sapevo molti capitoli legati alla produzione dell'inno quindi penso che sia stata anche per i nostri ascoltatori una piacevole scoperta grazie grazie a te grazie a voi lasciami dire un forza a cagliari perché con te e di pragmatica non se ne può fare a meno sai che condividiamo questa malattia forza a cagliari e forza varis forza varis sempre sai che ti devo dire la verità forza a cagliari mi è diventato indigesto da qualche anno e non riesco più a dirlo visto sempre forza castello è giusto hai notato come sta diventando sta diventando più presente questo forza castello rispetto al passato esatto 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 è vero è bellissimo e speriamo che sia sempre più così grazie andrei ancora grazie un abbraccio e saluto tutti i grandi ascoltatori a presto ciao ciao e tutto anche per oggi vi ricordo l'appuntamento per domani perché domani è giornata di calcio c'è squarcia gol dalle 21 e 15 saremmo collegati con cristian fisso ridendo con andrea sanna con robert allai con danni alla regia e con i collegamenti del sottoscritto per raccontare la partita tra lazio e cagliari quindi appuntamento a domani per quanto ci riguarda personalmente e per quanto riguarda invece gp onr l'appuntamento è rinnovato per venerdì alle ore 12 grazie a tutti 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 grazie a tutti